Aperto ufficialmente il tanto atteso sottopasso pedonale di Villa Pavone a Teramo, realizzato da RFI e destinato a collegare via Melozi con la statare dell'80. La decisione è stata assunta dal Comune in considerazione delle festività dei Santi e commemorazione dei defunti, che porteranno un consistente numero di persone in quell'area per la tradizionale visita ai cari estinti. Apertura che ha però suscitato alcune polemiche da parte del Comitato di Quartiere, visto che non è ancora in funzione il servoscala, già installato ma non ancora collegato alla rete elettrica. Abbiamo riaperto il sottopasso perché ieri durante un sopralluogo avuto con la ditta che lo ha realizzato alcuni cittadini ci hanno chiesto giustamente se si poteva riaprire proprio perché siamo in prossimità della festa di ogni Santi e dei Morti e ci è sembrato giusto. Fermo restando però che il servoscala per i disabili verrà azionato in corso di settimana perché abbiamo richiesto a RFI alcuni aggiustamenti proprio sull'utilizzo di quel servoscala. Un sottopasso nuovo totalmente a costo zero per il Comune? Sì, è totalmente a costo zero perché questo faceva parte di un accordo di programma quadro tra RFI regioni con fondi comunitari e anzi adesso verrà realizzato anche un ulteriore sottopasso dove veramente non ci saranno scale e quindi sarà fruibile da tutti quanti nella zona della chiesa di Cartecchio. Il costo previsto si aggira intorno a un milione di euro e anche questo per questa realizzazione il Comune di Taramo non effettuerà nessun tipo di esborso.